Buongiorno e buon inizio di settimana spettatori e spettatrici. Nuovo appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. E allora la nuova ondata Covid è trascinata dalla variante Omicron che colpisce soprattutto i più giovani ma anche in Novax. Sale la pressione sugli ospedali e l'Istituto Superiore di Sanità lancia l'allarme, il vaccino è la nostra arma di difesa. Dunque in Italia il picco dei contagi è previsto per gennaio ma in Europa bisogna registrare due fenomeni. Da un lato il calo dei contagi e dei ricoveri in Germania dopo il lockdown imposto ai Novax ma dall'altro lato il record negativo nel Regno Unito. Pensate che un londinese su 10 è positivo ma sulle prime pagine dei giornali di oggi lunedì 27 dicembre c'è anche spazio per la morte di Desmond Tutu l'arcivescovo anglicano morto a 90 anni. Lui era stato premio Nobel per la pace nel 1984. E allora come di consueto partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera che titola varianti ecco il mio piano. Figliuolo solo i vaccini fermano l'ondata. Novavax il nuovo vaccino per convincere gli scettici. Lombardia e Lazio rischiano il giallo lockdown per i non immunizzati. Crollo dei casi in Germania. Il piano contro le varianti, vaccinazioni e screening nelle scuole dice al Corriere il generale Figliuolo. Solo con le immunizzazioni fermiamo l'ondata. Lazio e Lombardia rischiano il giallo. Crollo dei casi in Germania dopo il lockdown per i Novax. Paghiamo tutti per i Novax. Ora l'obbligo. I Novax condizionano la vita degli altri e l'obbligo vaccinale sostiene l'immunologo Sergio Abrignani. È l'unica soluzione per proteggere chi rispetta le regole. È un'unica soluzione inaccettabile che 9 italiani su 10 debbano pagare per il comportamento di pochi. Una minoranza che però riempie le rianimazioni e condiziona la vita del 92% che adempie al dovere. Non è da schiavi desiderare qualche anno di vita in più. È il titolo del reportage psicologico di Emanuele Trevi. Due anni in questo infernale pantano pandemico con tutte le sue conseguenze, dirette e indirette, ramificate in ogni attimo, in ogni anfratto della nostra esistenza e prospettive che più fosche non si potrebbero, almeno per il prossimo futuro. Non si può dire che sia un bel bilancio. A centropagina, come vi dicevo, Tutu, l'eroe non violento che sconfisse l'apartheid in Sudafrica. Ha sconfitto il razzismo con la forza delle sue parole. Desmond Tutu, il volto sorridente nella lotta all'apartheid in Sudafrica, è morto ieri a 90 anni. Per Igoni Barrett è un visionario della storia e lo vediamo in foto a Città del Capo nel 1994 con l'ex presidente del Sudafrica Nelson Mandela nel giorno delle elezioni. In spalla c'è spazio anche per la politica estera. Vendette e il rapido declino della stella Kamala Harris. Salvate il soldato Harris, dove si è persa la brillante Kamala, la guerriera che doveva essere la vera leader nell'amministrazione Biden, o almeno la speranza del futuro. Le aspettative attorno alla vicepresidente furono enormi all'epoca della sua nomina. Il vecchio Joe era considerato già logoro in partenza. Lei doveva rappresentare tutto il nuovo e una potente carica di energia. Quelle richieste anche leghiste per i migranti, mancano gli operai nelle fabbriche del nord e così anche i leghisti vogliono più permessi lavoro per i migranti. Addio a Zigliani, creò il sogno degli spumanti. L'enologo aveva 90 anni. Nel 1961 realizzò un sogno, creare spumanti italiani con berlucchi alla pari dei francesi. Franco Zigliani, morto ieri a 90 anni, è il padre della Franciacorta. Passiamo a Repubblica, che titola Prigionieri del virus fino a 8 ore di coda nelle farmacie per i tamponi e indice di positività all'11,5%, 2 milioni di italiani costretti in quarantena. Salgono vertiginosamente gli autoisolamenti fiduciari, anche dei vaccinati. Il fisico Battiston dichiara ripensare i protocolli o il paese si ferma. In Germania e Austria il lockdown dei Novax argina la quarta ondata. Un italiano su 120 oggi è a casa con il Covid. I positivi sono 516 mila. Se ognuno di loro ha in media tre contatti, possiamo stimare che fra 1 e 2 milioni siano bloccati in quarantena per il virus. Poi c'è il commento di Tonia Mastrobuoni. Cosa insegna il modello tedesco? A dicembre la Germania ha introdotto un severo regime che ha escluso i Novax dalla vita pubblica, lasciando libertà agli immunizzati. Il lockdown per i non vaccinati ha frenato l'epidemia. E poi il racconto di Michele Bocci nelle terapie intensive tornate trincee. Tre indizi, questa volta non fanno una prova. Struffoli, albero addobbato, cappello rosso e bianco si notano appena in mezzo ai macchinari che pulsano e alle facce accaldate da tute e mascherine. Prima di andare a centropagina c'è il richiamo sulla notizia in Afghanistan alle donne viaggi vietati senza uomini di Francesca Cafferri. Ma andiamo a centropagina, come vi dicevo, la notte di Natale su quel gommone come in un presepe. 900 sbarchi in due giorni. E lo vediamo in foto tra i soccorsi le figure di un padre, una madre e un neonato. Un Natale gelido, un Natale in solitudine, un Natale in lutto, scrive Paolo Di Paolo. Riesco a immaginare molti Natali, giorni di festa in cui la festa è solo un segno rosso sul calendario. Però un Natale in mare aperto non riesco a immaginarlo. E poi la morte di Desmond Tutu, Sudafrica, sconfisse l'apartheid a Dio all'arcivescovo dei diritti. È stato l'ultimo ad andarsene dei giganti che hanno abbattuto il vecchio e forgiato il nuovo Sudafrica dopo la sconfitta dell'apartheid. Desmond Tutu è appartenuto a pieno titolo alla generazione che seppe mettere la vita sulla bilancia in nome di un principio e di un ideale. In spalla Bari, l'udienza che frena il Cavaliere, poi il sortileggio di Berlusconi e di Ezio Mauro. Nel eterno ritorno italiano ricominciano, come vent'anni fa, le telefonate dei giornalisti stranieri increduli. Passiamo alla stampa. Il giornale di Torino, che titola Tamponi e terze dosi. Caos di fine anno. Il timore di 100.000 casi al giorno a gennaio. Battiston. Lockdown per i non immunizzati, come in Germania. Crescono i contagi. Il governo studia come rivedere le regole della quarantena. Non si può bloccare tutto. Leggiamo il richiamo. Tra tamponi e richiami incombe il rischio paralisi. Si teme il blocco dei servizi essenziali per i troppi positivi a casa. L'allarme degli esperti. A gennaio, 100.000 casi quotidiani. Il nuovo piano vaccinale del governo conta di mettere a disposizione 700.000 dosi al giorno per fermare Omicron. Il fisico Battiston. Lockdown per i non immunizzati, come in Germania. C'è anche spazio per l'articolo scientifico ventilazione, arma anti-Covid in più. L'armamentario messo in campo in questi due anni contro il Covid-19, compresi i vaccini, sta deludendo le speranze di uscire dal tunnel pandemico. Dopo alcuni giorni vuoti di notizie, ha acquistato rilevanza mediatica in queste ore. La presa di posizione dell'OMS sulla necessità di investire nei meccanismi di ventilazione per gli ambienti chiusi. Un'arma cruciale per bloccare la circolazione del virus. A centro pagina le due foto. Il Natale di morte dei migranti. Nel 2021, ai nostri confini, non c'è una guerra dichiarata. Eppure, non c'è tregua. Non ci sono soldati interincea, ma famiglie che muoiono di freddo e la polizia di confine europea che le insegue. E dall'altro lato, le donne afghane non viaggiano più di Francesca Mannocchi. Le autorità talebane hanno annunciato nuove restrizioni per le donne afghane. Quelle che intendono percorrere distanze superiori a 70 km devono essere accompagnate da un familiare di sesso maschile. In spalla, poi, l'economia. I lavoratori poveri. Il 12% guadagna meno di 11.000 euro. In Italia cresce il lavoro sottopagato. Sotto la soglia di povertà, più di un addetto su 10. L'intervista a Paduan e il recovery, la vera sfida è il 22, il 2022. Sul recovery l'Italia non può sbagliare. Rischiamo di bruciare credibilità e crescita. Il presidente di Unicredit ed ex ministro dell'economia, Pier Carlo Paduan, in un'intervista alla stampa si sofferma anche sulle acquisizioni bancarie. Devono far diventare gli istituti di credito più europei e meno italiani. Il commento di Stefano Lepri. Se il compromesso frena la crescita, un paese dove da quasi 30 anni il benessere non aumenta, deve concentrare gli sforzi per rendere più dinamica la sua economia. Draghi lo ripete spesso, ma la legge di bilancio per il 2022 serve pochissimo allo scopo. Il premier e i ministri a lui più fedeli si sono più che altro impegnati a evitare modifiche in peggio. Poi c'è anche spazio per la politica. Bossi e il Quirinale, il premier o Silvio la spunterà casini. La previsione di Bossi per il Quirinale, Draghi o Berlusconi la spunterà casini. Poi c'è anche il racconto di Simonetta Shandivashi e gli auguri social dei leader in festa. È il primo Natale senza la bestia su Twitter e Instagram e si avverte. I biglietti d'auguri recapitati agli italiani dai social network di ministri, presidenti e soldati portano il segno, come tutto, dell'effetto Draghi, ma più ancora della fine della fabbrica dei mostri congegnata da Morisi. Diminuzione delle felpe e aumento dell'ottimismo, dei maglioni, dei presepi, del buon cuore. Armonia e sobrietà da tutte le parti o quasi addirittura con esiti. I conoclasti, foto di gruppo non pervenute, la faccia ce la mettono tutti, tranne Letta. Renzi che posta una letterina scritta, mano e calenda che, fiero capitalista, mostra i regali ricevuti per gli appassionati di Briglio e che ce frega Libiamo. C'è sempre Sant'Anché. Infine, nel taglio basso, addio a Tutu, l'arcivescovo ribelle che sfidò l'apartheid. C'era un tempo in cui, se eri bianco e volevi andare a Sharpville o a Soveto, i ghetti neri di Johannesburg, dove era nata la resistenza contro l'apartheid, dovevi affidarti a un trucco ingegnoso, prenotare un giro turistico. Nel tour era Metafissa, un quartiere di baracche senza acqua nei servizi, chiamato Mandela Squatter Camp, il posto più povero di un posto di poveri. Passammo davanti a una scuola in cui le aule erano formate da vecchi autobus arrugginiti. Sulla lunga recinzione, un murale con un solo volto, un omino con grandi occhiali che sembravano due fuori d'ombra, una coppola d'antico rivoluzionario ottocentesco e un grande, incontenibile, travolgente, ma ispirato sorriso. È lui quello che adoro, è il mio e il nostro arcivescovo che ci porterà tutti in paradiso, mi gridò il tassista. Quell'uomo, Desmond Tutu, è morto ieri. Ha 90 anni, scrive Domenico Quirico. Passiamo all'edicola del Sud, la prima pagina di Puglia è Basilicata, la sanità degli amici, degli amici, l'erario dalla GIP, la regione trema. Ai domiciliari, anche l'eccesa e Mottola, si accendono i fari su un sistema di potere ben più ampio. zone d'ombra sulla gestione dei contratti della regione, si accendono i primi fari su quello che potrebbe essere un sistema di potere. Ti abbiamo assegnato quella gara, puoi organizzarti perché ti abbiamo assegnato la gara, così l'erario si rivolgeva all'eccese il 29 luglio scorso, mentre gli inquirenti li intercettavano. Poi spazio anche per la cronaca sulla pandemia, Puglia in zona bianca, ma i casi aumentano, la Puglia rimane in zona bianca, ma la quarta ondata continua a farsi sempre più importante. Sono stati 883 i contagi registrati dall'ultimo bollettino, 33 in Basilicata, mentre 2 i decessi. Il tasso di positività quindi schizza al 6,7%, tra la vigilia e Natale. Inoltre, in Puglia, sono quasi raddoppiati gli interventi del 118 per presunti casi Covid, complice anche l'arrivo della variante Omicron e l'aumento della paura nei cittadini. In totale sono oltre 11.500 i malati, di cui 171 ricoverati in terapia ordinaria e 22 in quella intensiva. Poi il Covid a Bari, test aumentati del 50%, boom di tamponi e code in farmacia. Più 50% di tamponi eseguiti in vista del Natale e il dato registrato a Bari, dove la vigilia e la giornata del 25 dicembre sono state caratterizzate da code di pazienti all'esterno, di farmacie, ospedali e laboratori di analisi. Oggi invece scattano le vaccinazioni per i 16-17 anni e per i 12-15 anni fragili. Passiamo al messaggero che titola Le tre varianti del virus nate in paesi meno vigili. L'intervista a Ricciardi contro le quarantene terza dose a giugno la quarta. Un anno fa il primo vaccino all'infermiera di Roma, quest'incubo finirà. Le tre varianti del virus sono nate nei paesi meno attenti. Ora bisogna spingere con la terza dose da maggio la quarta. Walter Ricciardi ha pochi dubbi. Il 2022 non sarà l'anno in cui ci libereremo del virus, ma grazie ai vaccini impareremo a controllarlo. Un anno fa la prima vaccinazione all'infermiera di Roma. Solo così la fine dell'incubo. Capodanno disco ristoranti, allarme veglioni clandestini. A Capodanno regole anti-covid più rigide, ma si teme che molti tenteranno di aggirarle, soprattutto con i disco ristoranti. Scattano i controlli su chat e social. E Maravenier dichiara boom di positivi. Rinunciamo a feste e cenoni. Si ferma anche domenica in Maravenier. Il regista ha avuto un contatto con persone positive e per prudenza siamo rimasti tutti a casa. Rinunciamo a feste e cenoni. A centropagina la foto, tutto il dialogo che batte l'apartheid, muore l'arcivescovo sudafricano, grande alleato di Mandela. Dramma Alzheimer. Due pensionati uccidono le mogli. Acchieti, un'anziana gettata nel fiume e poi un medico spara alla consorte. Doppio dramma dell'Alzheimer. Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie, 72enne, gettandola nel fiume Osento. Il pensionato si è poi costituito. La donna era malata da tempo. Tragedia analoga nella provincia di Terni. La notte di Natale un anziano ha ucciso sparandole la moglie malata davanti al figlio. C'è anche l'inchiesta Myanmar-Italia. Il traffico del TIC distrugge le foreste Italia al centro di un traffico mondiale di TIC. Tonnellate di legno sequestrate. Nel taglio alto l'intervista al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Così pagare le imposte sarà più facile. Arriva la precompilata IVA per imprese e professionisti. Lo annuncia Ruffini. L'obiettivo è quello di semplificare la vita al contribuente, combattere l'evasione fiscale, migliorare l'efficienza della macchina statale. Partendo nel 2022 con questa novità assoluta. È un passaggio obbligato per accompagnare la semplificazione del sistema tributario. Sono coinvolti 2 milioni di contribuenti. Nel taglio basso i fratellini eroi sospesi nel vuoto per beneficenza. 24 ore alla ghiaccio in sospeso su una scogliera in balia del vento che ha raggiunto una velocità di 80 km all'ora. E la sfida di due fratelli di appena 13 e 18 anni, Daniel e Kelvin McDiarmid, hanno deciso di mettersi alla prova per beneficenza. L'obiettivo è raccogliere denaro da destinare ai regali di Natale per i bambini in difficoltà del Chestnut Treehouse di Arundel, un ricovero del West Sussex in Gran Bretagna. Hanno raccolto 8 mila sterline. Circa 9 mila e 400 euro. E poi addio a Zigliani, l'enologo che creò la Franciacorta, è morto all'età di 90 anni, Franco Zigliani, che vediamo in foto, il genio delle bollicine. Enologo di fama è stato il creatore nel 61 con Guido Berlucchi, delle cantine di Borgonato, lanciando la Franciacorta per la prima volta. Per il 2022 la Berlucchi è stata premiata, cantina dell'anno, dalla guida Gambero Rosso. Andiamo al mattino al giornale di Napoli. Covid, il picco a gennaio, 100 mila casi al giorno. Anche qui l'intervista a Walter Ricciardi, le tre varianti arrivate da nazioni poco attente. 500 mila positivi e 2,5 milioni in quarantena, incubo paralisi nei servizi. Omicron record di infetti, ma meno malati in corsia. La maggiore contagiosità dell'omicron in proporzione rischia di mettere sotto pressione gli ospedali, anche se uno studio conferma che le persone contagiate avrebbero l'80% in meno di possibilità di finire in corsia. L'odissea di un neonato, otto ore per un ricovero dal casertano, trasferito a Roma a pochi giorni di vita, il piccolo di Sessaurunca, nel casertano, contagiato, per cui è stato necessario il ricovero. Ma il posto è arrivato solo dopo otto ore di ricerca in Campania, poi il trasporto al bambino Gesù di Roma. Napoli Magia, boom di ascolti ed entusiasmo social per lo speciale di Alberto Angela a centropagina. E poi, dalla A alla Z, i protagonisti del 2021, l'almanacco di Massimo Adinolfi. C'è anche spazio per la manovra Superbonus, la detrazione integrale, solo nel 2023. Parte la corsa ad utilizzare il Superbonus 110%, le A e le altre agevolazioni legate alla casa, confermate nella legge di bilancio, che entro fine anno sarà approvata definitivamente dalla Camera. La detrazione è piena solo fino al 2023. Nel 2024 l'agevolazione scenderà al 70% e l'anno successivo al 65%. Per le villette va completato il 30% dei lavori entro fine giugno. Passiamo al quotidiano del Sud, che scrive troppe letture ambigue sui crediti di imposta. Così la coesione non si fa perché i capitali privati internazionali non arrivano e quelli locali scappano. L'unico mercato di sviluppo che l'Italia ha è il Sud, deve essere una priorità condivisa, la necessità di favorire in ogni modo la crescita dell'economia privata dei territori meridionali. Perché solo facendo crescere l'industria privata e attraendo con condizioni di favore capitali privati internazionali si può determinare una crescita di lungo termine. Mentre la cabina di regia fa le sue scelte giuste, sconcerta che si ponga il problema della non cumulabilità tra il credito di imposta per gli investimenti 4.0 con il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno erogati per compensare le diseconomie del territorio e favorire gli investimenti privati che portino alla coesione. Si pone il solito problema tecnico e cioè che entrambe le misure sono finanziate con i fondi del PNRR mentre in passato la prima era finanziata con i fondi del bilancio pubblico nazionale. Senza spiegare che il risultato di questo ragionamento sulla non cumulabilità è che chi fa investimenti in innovazione al nord non perde niente utilizzando un piano europeo con finalità di coesione e chi fa invece gli stessi investimenti di innovazione nel mezzogiorno perde paradossalmente i crediti di imposta legati dichiaratamente come giusto alla territorialità. Allora era questa la nostra ultima pagina l'ultima pagina che vediamo oggi a me non resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e buon proseguimento con i programmi della rete.